Grazie a tutti. E' stata intensa e lo sarà ancora di più nei prossimi giorni, però è chiaro che ci troviamo tutti dentro una sorta di frullatore che ci mette nelle condizioni di dover correre, correre, correre. E' un momento particolarissimo, molto difficile per tutto quello che conosciamo, quello che è avvenuto negli ultimi tempi a livello nazionale e internazionale. Noi siamo di fronte ad una competizione elettorale regionale, ma ovviamente siamo in un contesto più ampio che ci vede, come dire, protagonisti di una possibile nuova stagione. E noi lavoriamo per questo. Una stagione che ovviamente fa riferimento dal vostro punto di vista alla Caterina Chinnici, che proprio in queste ore, domani domenica, per chi ci sta seguendo, o meglio oggi domenica, per chi ci sta seguendo appunto di domenica sera, è stata a Trapani di pomeriggio alla Casina delle Palme. Un po' di provocazione ci sta da parte del giornalista. Dico, non c'abbia questo tempo, obiettivamente, quasi non ci eravamo accorti che fosse candidata. Ma guardi, ciascuno fa le campagne elettorali secondo il proprio stile. La Caterina Chinnici ha una storia personale, familiare, conosciuta, ha un'esperienza parlamentare europea, ormai di lungo corso. Certamente il suo modo di presentarsi è più, come dire, in punta di piedi rispetto ad altri che fanno dei proclami, però voglio dire, spero che questo atteggiamento, questo aplomb sia apprezzato per i contenuti, per la capacità, la serietà che esprime questa candidata. Una donna, una candidata che certamente potrà dare tantissimo alla nostra regione e noi lavoriamo e la sosteniamo pienamente, non soltanto per rispondere a quello che è stato un accordo politico, ma anche per convinzione, perché riteniamo che sia una candidatura assolutamente valida e che potrà esprimere il meglio della nostra terra. Andiamo alle proposte che sono intrinseche, assolutamente specifiche per la lista Centopassi, guidata certamente da Claudio Fava. Cosa vi differenzia dagli altri in questa competizione regionale e non solo? La lista Centopassi non è soltanto una lista, è un progetto politico. Il progetto può portare un po' d'acqua per Antonio Gandolfo che vedo che ne ha necessità, prego. Grazie, molto gentile direttore. È un progetto politico, in tempi di frammentazione, di separazione, di campanilismi, di piccole botteghe e battaglie di bandiera, noi come Centopassi abbiamo scelto di fare invece un passo in avanti per aggregare sensibilità che possono avere e hanno una base comune, ma che si sono espresse anche in maniera più approfondita su alcuni temi piuttosto che altri. Quindi Centopassi si differenzia proprio per questa capacità progettuale che non è qualcosa che viene inventato al momento, ci sono tante liste che sono state presentate per l'occasione. Noi abbiamo già una storia alle spalle, una storia di successo perché è stata premiata la lista cinque anni fa, con l'elezione di Carlo Dofava che poi ha assunto anche la responsabilità di presidenza della commissione regionale antimafia, molto gentile, grazie. Per la verità questo ci ha consentito di fare un lavoro parlamentare ovviamente di opposizione, molto importante, con delle proposte, con l'attività di indagini, con l'attività ovviamente anche della stessa commissione che ha dato vita a 12 relazioni che sono state approvate alla unanimità e che hanno aperto uno squarcio sulla realtà politica e istituzionale nei rapporti con ambienti della corruzione, della criminalità organizzata, quindi tutta un'attività di disvilamento di queste trame, non soltanto ciò ma anche la capacità di rappresentare le vertenze sociali e economiche che ci sono state in questi anni e che hanno trovato sempre una sponda nel Parlamento siciliano con i cento passi. Bene, una Sicilia che dal vostro punto di vista certamente deve cambiare rotta, deve cambiare direzione. Quale sarebbe la prima leva da muovere proprio per dare un segnale di cambiamento concreto? Io credo, probabilmente molto come dire, segnato dalla mia storia personale, io mi sono sempre occupato di lavoro, di diritti dei lavoratori, di dignità del mondo del lavoro, e io credo che sia questo l'aspetto fondamentale che dovrebbe essere al centro delle politiche regionali. Il lavoro in tutte le sue forme, attraverso una politica di incentivazione del lavoro, attraverso ovviamente gli investimenti che dovranno agevolare al massimo, con trasparenza, e dare la possibilità alle giovani generazioni di trovare il proprio futuro dentro la propria terra. E questo credo che sia fondamentale. In Sicilia arriveranno circa 50 miliardi di fondi, tra fondi europei strutturali e di recovery fund, e su questo ci sarà molto da lavorare per dare alla Sicilia delle infrastrutture moderne, le strade, la mobilità, ma anche i mezzi ai trasporti pubblici, sappiamo le difficoltà enormi che ci sono. Parliamo dei fondi per i progetti, non è che arrivano fondi così e poi vediamo come li utilizziamo, sono già destinati questi fondi. Beh, questi fondi devono essere gestiti, ed è la cosa fondamentale. Dovranno servire a questo fondamentalmente, perché il rischio che questi fondi non vengano spesi è altissimo, e noi lo sappiamo in Sicilia, questo storicamente è avvenuto, abbiamo necessità di preparare progetti che abbiano una qualità e un impatto positivo, forte nei confronti dei problemi del territorio, e questo lo può fare soltanto una politica attenta, in grado di affrontare con competenza e con una visione, una lungimiranza, su tutte le questioni fondamentali. Io ne voglio citare alcuni, porto, aeroporti, come dicevo prima, mobilità, ma anche i beni comuni, quali la sanità e la scuola, sappiamo le competenze della regione, e il turismo, perché non parlare di turismo. Noi abbiamo tante opportunità, tante potenzialità, non abbiamo ancora la capacità di strutturare attività di rete, con un collegamento leale tra istituzioni e soggetti privati, che svolgono la propria attività, in grado di poter presentare un turismo di qualità, competitivo con l'estero. Mi soffermo sul turismo, sapete benissimo che da parlamentare regionale, no, si è legislatori fondamentalmente, ok, ci sono le riunioni, le commissioni, però ognuno dei settanta in questo caso può essere promotore, primo firmatario di una proposta di legge. Gandolfo quale si intesserebbe? Rimettiamoci al turismo. Il turismo, noi abbiamo un distretto, un distretto turistico, questo distretto ha speso parecchi soldi, secondo me questa attività avrebbe dovuto portare risultati sicuramente migliori, non c'è questo collegamento tra le attività istituzionali e i soggetti che esercitano l'attività imprenditoriale sul territorio, credo che su questo ci sia tanto da lavorare, attraverso anche iniziative di natura regolamentare, normativo, che creino le condizioni fondamentali per poter dare un impulso al turismo attraverso questa connessione, altrimenti c'è, come dire, una incapacità complessiva di fare sistema, una incapacità di produrre un turismo di qualità, una incapacità quindi di rispondere a quelle che sono le nostre vocazioni territoriali. Su questo credo che ci sia tanto da fare nella prossima legislazione e io spero che la provincia di Trapani sia tra i protagonisti di questa nuova stagione. Avremo, diventerà in realtà nella provincia di Trapani, la possibilità di sfruttare positivamente la zona economica speciale che è stata proprio decisa per il nostro territorio. Qual è la visione di Gandolfo in merito? La zona economica speciale è certamente una grande opportunità, abbiamo avuto dei ritardi spesso poco comprensibili e comunque è sempre un'occasione per attirare investimenti privati attraverso tutte le forme di agevolazione previste. Anche qui è necessario avere una visione di insieme perché il pericolo è sempre quello come della frammentarietà, l'incapacità di avere una visione di sistema in cui tutti i protagonisti possano ritrovarsi e non soltanto sfruttare l'agevolazione fino a se stessa ma creare opportunità nel tempo. Quindi la ZES deve essere comunque collocata all'interno delle politiche industriali. Intanto immagino che già la possiamo considerare una vittoria il fatto che sia stata individuata per la provincia di Trapani è una cosa positiva. Beh, è chiaro che questo ci dà la possibilità di intervenire attraverso questo strumento. Questo è già, come dire, un risultato importante. È tutto da costruire. Assolutamente. Una deputazione regionale per il territorio trapanese che costerà di cinque esponenti. E quelli saranno. Esattamente. Come si diventa un unico corpo da questo punto di vista? Cinque di otto partiti diversi, otto qualsiasi diversi. Partiti diversi, ovviamente. Questo potrebbe essere anche... Probabilmente ci saranno qualcuno che sarà più di... Potrebbe pure verificarsi come è stato. Non lo sappiamo ancora. Non lo sappiamo. No, noi facciamo, vediamo perché ci saranno cinque di cinque partiti in coalizione diversi. Oddio. E in mezzo ci mettiamo appunto Gandolfo con i cento passi. Quindi, come farà Gandolfo? Se gli elettori mi daranno questa fiducia, sarò ben lieto di rappresentarli. Ed è quello che è mancato sostanzialmente fino ad oggi. Cioè, lo vogliamo dire, il territorio ramonese non è che abbia avuto grandi capacità di essere rappresentato. E quindi, non soltanto il problema di connettere un territorio e quindi di rappresentarlo nel suo insieme e non per i singoli temi, le questioni che stanno a cuore di quel rappresentante piuttosto che un altro. Anche se alcuni sono spariti, voglio dire, molto rapidamente. Altri invece hanno avuto una visione settoriale limitata ai propri interessi elettorali, di collegio, eccetera. Io credo che ci sia la necessità di lavorare insieme come deputazione regionale per fare anche qui, come dire, gli interessi di un territorio più grande. Sarebbe bello, ottimisticamente si potrebbe pensare di poterlo fare dentro un'assemblea regionale, quantomeno avere la possibilità di scampiarsi lealmente, come dire, i propri pensieri, presentare progetti anche unitariamente trasversali, laddove, come dire, ci si trova, c'è una sensibilità comune e credo che questo potrebbe essere l'occasione per lavorare insieme come deputazione. Va bene, mi inquadro a me, la possibilità a Gandolfo appunto di sedarsi un attimo. Beh, Centro Passi è una lista di centrosinistra, una lista appunto che fa del... è una lista di un'espressione progressista appunto, quindi di un'idea assolutamente di sinistra. Una Sicilia che deve guardare a futuro, dal vostro punto di vista, come deve diventare. Gandolfo. Beh, noi in questa campagna elettorale abbiamo rimesso al centro parole che scompaiono, come quello appunto del lavoro, dei diritti, dell'ambiente e quello che vogliamo. Cioè una Sicilia che sia completamente diversa, che abbia la capacità di progredire, che abbia una voglia di mettere in gioco le proprie energie per cambiare radicalmente. Abbiamo bisogno di giustizia, giustizia per gli uomini e per le donne di questa terra, per i giovani, per tutti coloro che si trovano in difficoltà, per coloro i quali vorrebbero dare la propria passione, le proprie energie per cambiare, per migliorare la vita personale e di tutti gli altri. Noi dobbiamo creare le condizioni perché ciò possa realmente avvenire. E' questo che chiediamo agli elettori, dare il proprio voto ad una lista che ha questo progetto di fondo e che potrà rappresentare al meglio queste istanze attraverso la propria deputazione al Parlamento siciliano. Date un voto ai cento passi e un voto per la Sicilia e per i siciliani. C'è un muro da battere che è quello dell'assenzionismo. L'assenzionismo è un fenomeno certamente presente da molto tempo. Persone che non si occupano di politica non intendono dare una propria indicazione. L'assenzionismo da diversi anni ha assunto anche connotazioni diverse. Ci sono tanti elettori, tanti cittadini che hanno sempre votato o addirittura hanno fatto militanza, hanno partecipato attivamente alla vita sociale e politica del Paese. Ebbene, questi elettori non vogliono andare più a votare. È un problema enorme. È un problema di distacco, di separatezza, di disillusione, di amarezza. È chiaro che è una forma di astenzionismo che deve fare pensare seriamente a chi oggi si presenta per raccogliere consensi. Io credo che noi, non solo in Sicilia, ma anche nel Paese, abbiamo necessità di affrontare il tema attraverso una rifondazione della soggettività politica del Paese. Quello che oggi c'è non è sufficiente, non va bene, non viene più apprezzato dai cittadini, molti decidono di non andare a votare perché il loro voto non ha più alcun significato e non conta nulla. Noi dobbiamo cambiare, cambiare le leggi, cambiare la proposta, farlo in maniera diversa, perché abbiamo necessità di tenere alta la nostra democrazia che così soffre maledettamente. Grazie Gandolfo, un minutino proprio per spiegare come chi si sta seguendo, se lo volesse, può votare per Gandolfo, tecnicamente proprio. Io, le dico, la mia storia è la storia della mia militanza, una militanza ideale, sentimentale, pratica, mi sono trovato ad affrontare i problemi dei colleghi, problemi semplici, ma fondamentali da affrontare. Quindi c'è da un certo punto di vista una visione, dall'altro la capacità di guardare le cose nel concreto. Ecco, e allora io penso che se volete votare un rappresentante che viene dal popolo, da una storia di migrazione siciliana e sta dando, diciamo, in questo momento il proprio contributo per cambiare le cose, fatelo, faremo un viaggio insieme. Lista a cento passi, non l'ho detto lui, lo dico io, Gandolfo, eventualmente. Esatto, grazie direttore. Che è candidato appunto alle regionali. Lo ringraziamo, gli auguriamo una buona corsa, ormai per questa ultima settimana, cinque giorni circa, ufficiali di contatti elettorali e poi, insomma, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie per aver seguito questa ennesima trasmissione di Respubblica. Arrivederci.